Perché no? Ne dedichiamo una al grande B.B. King, va bene Enrico? Non l'abbiamo mai suonata prima, è venuta così. B.B. King, gli facciamo un applauso? A 83 anni continua a girare il mondo il sonoro della chitarra. B.B. King, gli facciamo un altro modo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.